finire questo lo rimandiamo ok per esempio roberto pilia qua chiedeva il problema si presenta sui provvisori di qualunque linea non esiste la linea indistruttibile non si vede niente il torrone di tonara si quello rompe facciamo un altro live torniamo live abbiamo cambiato la connessione go live c'erano eccoci qua allora siamo di nuovo live siamo avete delle domande sul gruppo ci sono altre 1800 persone qua che vedranno questo video scrivete ci chiedeva roberto pilia se questo problema si verifica con le linee coi provvisori di tutte le linee di provvisori indistruttibili li ho provvisori definitivi non ci sono tutti i provvisori si rompono tutti i provvisori si rompono ma anche tutti i definitivi si rompono c'era una moda in america dove la gente denunciava che cadeva sui pavimenti bagnati denunciava mcdonald ok facevano tutti causa problema non è chi aveva lavato eccetera il problema è che se bagnato lo vedi non ci passi bisogna essere responsabili nella vita nel senso che se si arriva avere un problema delle volte prima che accusare bisognerebbe guardare su dentro se stesse capire sono stato responsabile tutto parte dalla responsabilizzare si responsabilizza come con istruzioni come quelle che stiamo facendo oggi ci sono dei cibi che quindi non potrete mangiare ci sono delle cose che non potrete fare come strappare ci sono delle cose che non che dovrete invece fare cosa bisogna fare coi denti artificiali in bocca tutti i giorni igiene 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 fondamentale quando noi togliamo le protesi e veniamo portate un paio disinfettate ok me le avete riportate tutte ci possono arrivare delle protesi che sono in queste condizioni puoi inquadrare jana ok sono disinfettate tanto però non l'ho tolto quello volutamente perché voglio che voi capiate cosa cosa si può formare ok paziente dice che per esempio fumando gli si macchiano i denti ci chiama guarda c'ho tutti i denti macchiati la colpa è nostra o del fumo del fumo non ci fumi con le protesi ok il paziente ci chiama e ci dice che cioè che ne so un impianto imperimplantite noi togliamo l'impianto e vediamo che tutto attorno ci ha attaccato tartaro lì non è un problema di marca dell'impianto di inserimento un problema di tossine che vanno a un certo punto a infiammare le gengive le gengive se ne vanno ci sono delle cose che vanno usate jana in questo fa scuola con jet peak ci sono delle degli strumenti meccanici che bisogna usare che sono gli scopo lini e ci sono dei video sulla ss universe no sul gruppo che fanno vedere proprio come bisogna pulire sotto le protesi i punti dove si pulisce qua sotto vedete quest'area scura qua quasi inseriscono dei fili come per esempio il superfloss superfloss da oleg ora ci lascia che sta a lavorare per superfloss è un filo che si usa che usano per esempio i ragazzini che hanno l'apparecchio i ragazzini che hanno l'apparecchio hanno lo stesso problema di chi c'ha la protesi c'è un filo che vende la oral b che è questo superfloss che ha una parte rigida che si inserisce tra la protesi e la gengiva poi c'è una spugna dietro questa parte qua bianca quelle la spugnetta che va a pulire e si può anche abbracciare l'impianto io abbraccio l'impianto con la spugna e lo lucido se non faccio questo lì sotto ristagna il cibo che ristagna quando mangio rimane un biofilm si crea quel biofilm da da mangiare i batteri che si annidano la iniziano poi a produrre gli scarti le tossine che sono quelle che fanno poi infiammare le gengive una volta che poi quello si non viene elevato per per esempio dieci giorni si trasforma in pietra si calcifica come la cornetta della doccia si crea il calcare il calcare è dovuto all'acidità al ph basso se il ph invece è alto il calcare non si forma perché non precipita nei sali di calcio come che si alza al ph si alza col colluttore col colluttore quindi il disinfettante ogni giorno al colluttore è il migliore alleato per evitare che il ph scende e quello ci aiuta a mantenere poi i denti liberi da questo da questo tartaro perché poi il tartaro quello lo spazzolino l'idropulsore non lo leva più non lo toglie più per questo serve avere un tipo di design di protesi che devono essere anche facili da pulire dobbiamo certo fare dei compromessi delle volte però qui sotto nella linea di passaggio tra la protesi e la gengiva naturale il superfloss ci passa il filo si fa passare si prende da dentro con la spugnetta si pulisce dopo un tot di anni cinque anni la gengiva si può ritirare cosa facciamo noi svitiamo la protesi ribasiamo e la riavitiamo cioè colmiamo lo spazio che si forma con una ribasatura con lei si chiama la ribasatura si può fare non solo alle dentiere ma anche i denti fissi avvitati andiamo invece su altre fotografie questa ve l'ho spiegata questi non sono problemi invece se doveste avere per esempio quella gengiva che si è ritirata e ha scoperto la parte metallica della capsula ok questo non è un problema questa è semplicemente una porzione della capsula che prima non si vedeva che la gengiva era su non vai a rifare togliere un ponte e tagliare limare rifare per una gengiva che ha perso un millimetro bisogna proporzionare l'intervento con quello che è il problema questo si sono un capsule queste da togliere da rifare se il paziente rompe lo zirconio a quel punto li mettiamo metallo ceramica se rompe anche il metallo ceramica mettiamo metallo metallo non lo spacchi ci sono le battute in metallo anche denti con battute in metallo si si fanno e come se si fanno ve li faccio vedere denti battute metallo vediamo eccoli qua in germania ne fanno tantissimi di questi vedete la porzione centrale qua rimane il metallo dove vanno a contatto i denti di su con quelli di giù vediamo se ne trovo degli altri magari a risoluzione maggiore niente non lo trovo secondo me problemi di connessione qua vediamo se clicco su questa questa vediamo zoomiamo questa questa addirittura integrale vedete che le ultime le fanno completamente metallo metallo e qua ci sono le faccette estetiche la porzione visibile questi sono lavori che si fanno su pazienti che sono proprio quelli bruxisti che masticano tutto quelli che vogliono mangiare le pietre ok ci abbiamo avuto pazienti in passato a cui abbiamo fatto questo tipo di lavori ed erano pazienti particolari pazienti per esempio che hanno spasmi muscolari incontrollati pazienti che hanno delle para funzioni si chiamano dei movimenti non corretti quindi la mandibola che ha avuto delle tra dei traumi oppure cresciuta storta la mandibola e comunque va in trauma continuo l'unico modo di risolverlo è questo evitare che si crei il problema mettendo dei denti che sono indistruttibili questo ecco sono dei denti che però si possono staccare le ceramiche dal metallo ok se uno da va a strappare comunque lì la ceramica si può si può staccare domande